Ha origini tutte europee e il nome deriva dalla parola di lingua greca narcao che significa stordisco. Nella mitologia greca Narciso è un personaggio famoso per la sua bellezza. La maggior parte delle volte lo si trova di colore bianco o giallo e maggio è il mese della sua fioritura. La proloco di Stabi e Canai organizza ogni anno alla baita le fosse la festa del Narciso con polenta, spiedo e musica per dare risalto a questo splendido fiore ma anche per cercare di tenere vivo l'interesse per queste frazioni dai complessi e ricchi tesori naturalistici. Oggi è il giorno 7 maggio e la giornata della festa del Narciso qua alle fossi di Lentiai. È il centro polifunzionale del comune dove queste case sono destinate a festiccioli diciamo tipo ceni e oppure manifestazioni di questo genere. È una tradizione ogni anno si fa questa festa del Narciso e grosso modo la prima domenica di maggio. Naturalmente è quando ci sono i Narcisi e come vedrà se guardano giù in basso ce n'è qualcosa perché quest'anno sono cresciuti praticamente prima del solito. e la gente come risponde? La gente risponde abbastanza bene. Ho visto l'anno scorso che è stata una giornata piovosa e pur piovendo sono arrivati praticamente abbiamo fatto il pieno. Queste feste utili anche per il turismo anche per promuovere i posti di montagna? Esattamente questo si trova su un sentiero che viene praticato dalla gente che viene su a stabie come passeggiate e su questo tragitto passano anche le nostre manifestazioni che facciamo agosto su e dopo ai coi di stabie. È una corsa in montagna e una ACME a una Nordic Walking. Grazie a tutti.